Ed eccoci nuovamente in studio, naturalmente in questa lunga maratona al seguire il Festival di Sanremo con tutti questi interventi, dopo l'intervento appunto di Carla Boni che si è collegata con noi dal Messico, perché siamo salutati proprio agli albori appunto della Kermes Sanremesa, ormai giunta alla 57esima edizione, e dopo tutti gli interventi finalmente siamo riusciti a raggiungere invece una protagonista del Festival appunto del 92 che nella sezione di nuove proposte in coppia con Leandro Baldi ha vinto appunto la Kermes per quanto riguarda le nuove proposte, l'anno in cui Barbarossa vinse con Portami a Ballare con la partecipazione della Combianta Mia Martini con Gli Uomini Non Cambiano e La Forza della Vita di Paolo Vallesi, nel nuove proposte appunto vinse Aleandro Baldi insieme a una giovane promessa appunto della musica italiana di allora, e adesso una certezza, con una canzone molto bella che tra l'altro è rimasta impressa a caratteri indelebili appunto nella storia della musica italiana, che appunto è Non amarmi. Sto parlando di Francesca Alotta, ciao Francesca e benvenuta a Radio Roma. Ciao, ciao a tutti. Ciao, scusa, siamo arrivati riusciti a... Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, perché era una serata un po'... Comunque siamo riusciti a veramente portare avanti questa trasmissione questa sera e sei ormai l'ultima delle nostre, dei nostri invitati, tra l'altro siamo avuti problemi di collegamento. Comunque ci siamo, siamo qui adesso con te. Innanzitutto tu hai vinto questo grande, questo festival, questa canzone veramente che ti ha consacrata appunto sull'altare appunto della musica leggere italiana. Qual è il ricordo più bello che hai di quella edizione? Perché il 92 penso che è quella che ti è rimasta più nel cuore. Sì, sono andata anche nel 93, ma sicuramente quella più importante, quella che sicuramente mi ha sconvolto di più è stata non amarmi, anche perché non volevano... la nostra casa discografica non è che ci credesse più di tanto e quindi abbiamo veramente dovuto lottare, perché dicevano che non era una storia credibile tra una donna che non aveva un handicap invece che un'altra persona che avesse un problema fisico, capito? Come se l'amore potesse risiedere nel nostro corpo e non nel nostro anima, nel nostro cuore. Quindi già abbiamo dovuto veramente lottare convincendo i nostri discografici, tranne il nostro grande Mario Ragni che era il direttore artistico ed è stato lui il promotore di questa cosa che ha creduto in noi dal primo momento. Ma al di là di lui insomma veramente abbiamo dovuto lottare con tutti, insieme a Marco Falagiani che tra l'altro è l'autore anche di Gli uomini non cambiano e altri brani importanti come anche quello dopo che ho cantato a Sanremo l'anno dopo. Tra l'altro nello stesso anno poi lo cantò Mia Martini tra l'altro Gli uomini non cambiano. Sì sì infatti e poi il produttore era Giancarlo Bigazzi, il grande Giancarlo Bigazzi e tra l'altro... La grande scuola toscana, quello era un periodo... Voglio fare un grande applauso ideale insomma a Marco Falagiani e al Bigazzi che hanno praticamente prodotto questo nuovo ragazzo che è Fabrizio Moro e che ha vinto nella sessione giovane quindi veramente sono strafelice per loro perché se lo meritano. Tra l'altro Marco Falagiani è stato mio fidanzato per cinque anni quindi diciamo che c'è un rapporto molto particolare e sono molto felice perché è una persona meravigliosa quindi si meritano sicuramente un grande grande successo anche il ragazzo è veramente lo merita perché ha fatto una tenerezza poi vedere insomma che ha dovuto fare di tutto per mantenersi... Questo è un po' l'attore un po' di tutti all'inizio insomma... Guarda il vincitore di riserva Fabrizio Moro prima vi abbiamo già parlato moltissimo proprio durante la trasmissione devo dire che è stato un po' un vincitore plebiscitario perché effettivamente c'è stato un margine incredibile tra gli... Vi raccontavo proprio Marco Falagiani che è stato veramente una cosa che non c'è stato assolutamente nessuna storia nel senso che ha avuto tutti quasi il 60% insomma una cosa impressionante di voti per cui non... veramente incredibile. Sì sì una grande veramente... era il vincitore breve annunciato ma proprio per qualità perché c'era un'arcia in più l'hanno detto tutti poi tra l'altro la cosa bella che prima abbiamo per esempio avuto in diretta Romina Falconi che insomma ha partecipato anche e tra cui anche invece l'autore di Centomo e tutti... la cosa che ho notato è che non c'è stata nessun tipo di rivalità erano tutti quanti hanno... hanno riconosciuto perfettamente... Io devo fare veramente un... anche se purtroppo Temo non mi sentirà... Sì? Ma veramente un grande applauso da parte mia... lo stimo moltissimo una grandissima artista e una grande cantante è Romina Falcone veramente mi ha colpito la sua anima. Guarda Romina l'abbiamo avuta ospite proprio verso le 21 e 30 all'incirca. Sì io spero che mi stia ascoltando e veramente le faccio le grandissimi complimenti e l'ho visto ieri ero da International al commentare un po' e appunto Sanremo l'ho visto l'altra sera insomma quando ha cantato Se adesso non ci ascolta comunque li faremo direttamente noi perché nel prossimo settimane sarà ospite Che ha un grande cuore, una bella persona e quando si è belle persone sicuramente si è in grado di trasmettere più emozioni perché sei persone vere. Certo. Senti invece una cosa Francesca perché tra l'altro diciamo che ritornando al tuo grande successo appunto di quell'anno e questa è una canzone che tra l'altro tu e quell'anno eri considerata un po' la nuova, la più preparata, proprio la nuova promessa dell'anno e tra l'altro fu l'accoppiata, com'è? Dicevi è vero? No, non sapevo di questa cosa. Sì perché è stata proprio l'accoppiata appunto tra un non vedente molto talentuoso e invece poi insieme alla più preparata nuova promessa dell'anno, queste sono le critiche, questo dicono E' una cosa, è stata forse questa accoppiata, poi all'inizio forse in cui pochi credevano, questa accoppiata che è stata vincente Tra l'altro l'albero baldi è una grande voce Ma no, credevano perché ripeto, la cosa assurda è che nel 92 ancora si credeva che non fosse possibile un rapporto tra due persone in cui magari appunto uno dei due avesse un problema fisico insomma Veramente, ah il cieco e l'abbellona, mi sono sentita dire anche queste cose assurde, no? Che sono veramente degradanti, cioè non ti fanno capire che purtroppo molti discografici questo lavoro non lo sanno fare non lo fanno col cuore, ma è come se vendessero saponette, purtroppo la verità è questa Sì, poi forse è vero che in Italia a volte sono più produttori discografici che i biglietti delle poste però sono quelli, li chiamerei quasi pseudo produttori per la fine, quelli veri che credono veramente nella Ma purtroppo è questo, ripeto, io quando penso che questo mestiere, questo lavoro bisogna fare un grande rispetto Io ho avuto un padre che era straordinario, purtroppo non c'è più, ma mi ha lasciato un grande insegnamento Amare questo lavoro, dare completamente te stessa e rispetto per la gente che ti ascolta Cercare di fare tutte le emozioni che hai dentro, nell'anima e trasmetterle Fare emozioni anche a persone che magari non sono in grado di farle per un motivo X Perché magari l'incapacità a volte di dimostrare, di dare, quindi quello, riuscire a trascinare le persone Magari e emozionarle, questo è quello che dovremmo fare sempre E purtroppo spesso nel nostro campo ci sono persone che con i sentimenti e con le emozioni hanno veramente pochissimo a che fare E purtroppo non ti può fare molto Certo, cioè sicuramente per fare questo lavoro bisogna, vabbè, io parliamo degli artisti, chiaramente questo ce l'hanno La grande sensibilità, perché poi un artista non può non essere sensibile, altrimenti non sarebbe un artista E invece purtroppo spesso i produttori diventano più mercenari, soprattutto legati al business Che alla vera sensibilità, alla vera essenza di quello che è appunto la trasmissione dell'arte E alla fine purtroppo ci sono a volte delle scelte, diciamo, sbagliate, di valutazione Però io per esempio parlo di una cosa che ultimamente ho assistito a uno spettacolo molto bello in teatro Un spettacolo per non vedenti, tra l'altro dove c'è una nostra carissima amica Tra l'altro un'iniziativa che noi abbiamo sposato con Radio Roma Per portare nei teatri appunto il metodo Braille per descrivere la scena ai non vedenti E' una cosa molto bella, tra l'altro fatto dall'attrice Tiziana Sensi Che ha portato avanti questa iniziativa e noi abbiamo sposato tranquillamente Come appoggio appunto a Tiziana e ne parleremo proprio nelle prossime puntate qui a Radio Roma A approfitto di questa parentesi che questo discorso è venuto fuori E veramente aiuta sicuramente molte persone ad avvicinarsi anche al teatro Che magari appunto purtroppo ci sono dei problemi fisici Ma addirittura ti dico che Tiziana Sensi ha portato in scena proprio al teatro Colosseo Proprio qualche mese fa Uno spettacolo molto bello Proprio realizzato da non vedenti Perché lì ha aperto proprio un laboratorio teatrale per non vedenti E praticamente lo spettacolo, il titolo era Un salto nel buio C'è stato un momento molto suggestivo Dove tutti quanti in qualche modo hanno vissuto Cosa vuol dire essere non vedenti per qualche minuto Perché è stato proprio riprodotto quello che è il rumore della nostra giornata Giornata, della nostra giornata tipo Tutti i rumori della giornata appunto di quando noi andiamo in giro Però al buio E questo è stato come veramente un salto nel buio